L'acqua è il composto chimico più abbondante sulla Terra. Si trova in tutti gli ambienti. Ed è parte integrante di tutti gli organismi viventi. Il ciclo dell'acqua, noto anche come ciclo idrologico, è il continuo movimento dell'acqua dall'atmosfera alla Terra e viceversa. Il ciclo è guidato dal calore del sole che provoca. L'evaporazione dell'acqua liquida dagli oceani, dai fiumi e dalla superficie del suolo in vapore acqueo. La traspirazione del vapore acqueo dalle foglie delle piante. Quando il vapore acqueo nell'aria si raffredda, Si condensa e si trasforma in acqua liquida. Questo vapore acqueo precipita dall'aria sotto forma di pioggia o neve. L'acqua liquida dagli oceani, dai fiumi e dai fiumi e dai fiumi. L'acqua liquida dagli oceani, dai fiumi e dai fiumi.